Il grano è morto ma risorgerà. Si consuma il secondo atto della cerimonia dell'amietitura di San Giorgio Lucano. La mietitrice che lega i covoni rappresenta la madre, la vergine, la sposa del grano. La madre assicura il nuovo raccolto. Questa è la fertilità della terra e alla terra ritorna. La madre assicura il nuovo raccolto. La madre assicura il nuovo raccolto. La madre assicura il nuovo raccolto. E adesso si passa al terzo atto di questa cerimonia. Questa cosa a San Giorgio Lucano si faceva veramente. Adesso andiamo tutti quanti a spogliare il padrone con la falce. Vedi qua, padrone, non dite che ti caccia i camisoli per la stocchipraga. Ora è la punta della falce. Ogni pottone, tu parte, il suo patto, ti spoglio tutto. Padrone, fai a prendere il vino buono che avete tu l'acqua, non fatigano. Patrone! Patrone! Su contadina sotto lo zappone Patrone! 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 San Poglio, passi la vita, la punta, la ripetina, partì la trincia e giù, partì il padrona, mi ha cavato di rinato a carina. Veglia di peccantone, peccantone, si fa un sardolo, si fa di cattone. Per la chiterna, c'è un'altra pregresso, mi ha cavato di rinato a carina, una notte mi scattano parte del centro. Svegliatevi, metetori, braccianti, contadini, ho facciamo sopra la rovesca, come la ripetina, ho facciamo ancora, alcun canta, canta e alcun mole, mole. Ho visto il silenio di riazioni, l'isoria cui scarna sta rovina, è tutto il silenio di rinato a carina, e tutto il silenio di rinato a carina. In un trabacchito, l'amore non senti, l'amore non vive con i tuoi lavori. In un trabacchito, l'amore non senti, 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 Grazie.